Mi chiamo Leon Femfert, sono il proprietario di Nittardi. A Nittardi abbiamo un profondo binomio tra vino e arte, però per noi fare vino non è un'arte, è un lavoro artigianale che si basa sui ritmi della natura e noi possiamo solo seguire la natura e non possiamo influenzarla come può fare un artista. Però il prodotto finale, il vino, è una piccola opera d'arte. Il mio vino del cuore sicuramente è il Casa Nuova di Nittardi che tengo qui in mano. Per me è un'espressione incredibile di Sangiovesa Castellina in Chianti e allo stesso tempo l'etichetta e l'evelina che ogni anno vengono dipinti da un artista diverso rispecchiano al meglio il connubio unico che abbiamo a Nittardi tra vino e arte. Avere la possibilità di andare in azienda a Nittardi, confrontarmi con le persone, vedere che lavorano bene, che si sono soddisfatti di quello che fanno, girare e scoprire che le persone apprezzano i nostri vini un po' in tutto il mondo, per me è la cosa più affascinante del mio lavoro.